Il Carnevale di Agropoli è un patrimonio della città, un evento alimentato dalla collaborazione e dalla capacità di tantissime persone. I carristi, gli animatori del Carnevale dei bambini, gli organizzatori della corrida, gli insegnanti che con gli alunni partecipano ai concorsi ad esso collegati, che si sosseguono da anni, i commercianti, le maschere e le mascherine che affollano le strade in quei giorni. Si tratta di una grande festa di tutti, forse il più istituzionale degli eventi ad Agropoli, fanno sapere attraverso una nota stampa dall'Associazione Operatori Turistici di Agropoli. La promozione dell'evento dovrebbe quindi essere istituzionale, ovvero affidata dall'ente comunale di Agropoli, che è il principale finanziatore dell'evento stesso, oppure ad un'associazione incaricata di gestire l'evento, spiegano. Se ciò non fosse e venisse invece presa in carico da un privato, si correrebbe il rischio che il privato facesse più che legittimamente i propri interessi, ponendo in secondo piano quelli dell'evento. Se poi avvenisse che in privato acquistasse per una manciata di euro il dominio di un sito web e proclamasse questo sito come il sito istituzionale del carnevale agropolese, linkandolo presso i siti istituzionali, senza aver acquisito autorizzazione alcuna dall'ente promotore dell'iniziativa, che resta il comune di Agropoli, ebbene saremmo alla farsa. Se poi il privato, proprietario di tale dominio, chiedesse del denaro per ospitare il link o banner di altre associazioni o soggetti territoriali, vendendo il valore aggiunto di un evento pubblico che non è di sua proprietà, andremmo ben oltre la farsa. Il nocciolo della questione è distinguere l'evento patrimonio di tutti, tutelato dall'ente finanziatore comune di Agropoli, dal sito, proprietà di un privato che, a quanto ci risulta, non ha ricevuto alcun tipo di incarico relativo alla promozione dell'evento medesimo. La OTA, l'Associazione Operatori Turistici Agropoli, richiede quindi a chi e a che titolo l'attuale sito ufficiale del Carnevale di Agropoli, www.carnevalediagropoli.com, sia intestato e come l'intestatario rispetti i canoni di evento pubblico, quale sia il controllo dell'ente finanziatore su tale sito, quali le modalità di accesso di altri attori territoriali al sito. Chiede soprattutto che l'evento pubblico di tutti i nuovi Carnevale di Agropoli sia promosso come un evento pubblico.